Oggi, 2 febbraio, l'Italia ha un grande lutto. Muore Monica Vitti, nata con il nome Maria Luisa Cecerelli a Roma il 3 novembre del 1931. Aveva compiuto da qualche mese 90 anni. Era un'attrice, icona del cinema italiano. Era assente però dalle scene dal 2001, quando fu ricevuta al Quinirale, per i Davide Donatello. È stata una musa di Michelangelo Antonioni ed è stata anche una regina della comedia italiana al fianco di Alberto Sordi. Molti chiedevano in questi anni che fine avesse fatto la grandettrice Vitti. La verità era che però lei fu colpita da un mare che fa regredire allo stato infantile, quindi cominciava a perdere la memoria. Infatti era sempre assistita dal marito Roberto Russo, che era stato per lei fotografo di scena di molti suoi film, ma infine anche suo registra in finale di carriera. Monica Vitti si era chiusa nel suo mondo perché ricordava il suo passato, però pochissimo il presente e quindi si era chiusa dentro di sé in questo mondo misterioso e nascosto. Ed è proprio Walter Veltroni che con un comunicato proprio Instagram e Twitter scrive proprio la morte della Monica Vitti. Infatti scrive così Roberto Russo, il compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c'è più. Lo faccio con dolore, affetto e rimpianto. Appena sparsa la notizia anche a Sanremo c'è stato un lungo applauso dalla sala stampa alla notizia proprio della scomparsa della grande attrice Monica Vitti.